Ciao a tutti, sono Martina Giorgetti e sono la responsabile marketing dell'azienda Cibitex SRL. Da più di 40 anni l'azienda si occupa di progettazione, installazione e costruzione di impianti industriali per il finissaggio e la nobilitazione dei tessuti e da qualche anno ha introdotto anche una parte di impianti per il finissaggio tessile digitale. Mi sono iscritta al gruppo giovani perché sono stata incuriosita dalle varie iniziative e attività di formazione che vengono organizzate dal gruppo durante l'anno e perché volevo conoscere persone nuove per fare rete. La sfida più importante per un giovane imprenditore oggi è affrontare il passaggio generazionale, quindi portare nuove idee e innovazione senza stravolgere la tradizione e la storia della propria azienda. Essendo praticamente cresciuta in un'azienda a conduzione familiare, l'impresa per me è collaborazione, voglia di mettersi in gioco ed edizione per il proprio lavoro. Il gruppo giovani è nuove opportunità perché dà la possibilità di conoscere le varie realtà del nostro territorio e di confrontarsi con altri giovani. Lavorando in un settore con importanti consumi a livello energetico non posso che augurarmi che l'impresa del futuro sarà sostenibile, portare innovazione nel rispetto dell'ambiente sarà una delle sfide più importanti nell'impresa del futuro.